in questo numero di turismo magazine alberghi nel 2021 il 50 per cento in meno di camere occupate turismo montano in crescita le disdette hanno raggiunto il 60 per cento delle prenotazioni la bit cambia data 2021 drammatico per l'industria alberghiera italiana sulla base dei dati dell'osservatorio confindustria l'anno appena trascorso si archivia con un tasso di occupazione camere che fa registrare un meno 48,6 per cento con punte nelle città d'arte che toccano il meno 58 per cento a roma e il meno 56,1 per cento a firenze non va meglio sul fronte dei ricavi dove la perdita media arriva al 55 per cento dati in linea purtroppo con le rilevazioni istat che nel solo periodo gennaio settembre ha segnato una flessione sul fattorato ricettivo del 36 per cento pesa sul settore l'assenza del turismo internazionale nel 2021 gli arrivi in massima parte europei si fermano a 36 milioni rispetto al 2019 mancano oltre 60 milioni di viaggiatori stranieri con una perdita di 25 miliardi di euro di spese turistiche sono gli esiti drammatici di un 2021 che presenta agli operatori un conto ancora più salato rispetto all'anno precedente frontiere ancora chiuse sei mesi di fermo pressoché totale delle attività lo stop della stagione invernale della montagna l'estate alcuni segnali di miglioramento a settembre e ottobre facevano ben sperare ma l'arrivo della variante omicron ha causato una brusca frenata che ha compromesso le feste di natale e aperto una nuova fase di incertezza per i prossimi mesi per maria carmela colaiacovo presidente di confindustria alberghi due anni come questi mette una durissima prova le imprese una difficoltà ulteriormente accentuata dall'assenza di aiuti che da luglio scorso non sono più stati rinnovati per il settore e allarme per i flussi turistici legati alla montagna che hanno registrato un crollo verticale per il secondo anno consecutivo a causa dell'aggravarsi della pandemia per l'uncem unione dei comuni montani la stima del 60 per cento di disdette delle prenotazioni nei territori montani alpini e appenninici tra gli operatori turistici albergatori e ristoratori in particolare regna l'incertezza il danno dell'inverno 2021 2022 è peggiore di un anno fa nel dicembre 2020 gli albergatori e i ristoratori sapevano che sarebbero rimasti con numeri ridotti quest'anno no e anche le spese sostenute per il magazzino di prodotti sono impossibili da ammortizzare le organizzazioni di categoria chiedono un impegno politico forte nessuno può escludere che serviranno ristori o fondi di rotazione ad hoc per le imprese turistiche sappiamo sottolinea l'uncem che la montagna gli spazi aperti e anche lo sci le attività su pista su neve e su ghiaccio con mascherina e altre protezioni imposte dalle normative causano meno contagi rispetto alle altre situazioni dove si concentrano molte persone se a questo si aggiunge una campagna vaccinale ad hoc la vacanza in montagna diventa garanzia di sicurezza la borsa internazionale del turismo cambia data da febbraio si sposta in primavera dal 10 al 12 aprile mantenendo la sua formula che guarda le mete turistiche dell'italia e del mondo e propone attraverso i suoi espositori un'offerta completa per l'incoming e l'outgoing in un contesto in cui la pandemia condiziona gli spostamenti a breve e a lungo raggio il settore è ancora interessato dalle decisioni dei vari governi e dai comportamenti dei singoli in questo contesto gli operatori del turismo che vedono in bit un momento unico e privilegiato per fare business e incontrarsi chiedono più tempo per permettere al settore di ritrovare un equilibrio e identificare le tendenze che caratterizzeranno i prossimi mesi da qui ad aprile l'osservatorio di bit sarà attivo per monitorare la situazione e identificare le soluzioni ottimali per rilanciare il settore da sempre in ascolto del mercato bit continuerà a confrontarsi con gli operatori per realizzare una manifestazione al passo con le esigenze e il contesto attuale obiettivo è garantire gli alti standard offerti dalla manifestazione in un contesto ricco di opportunità che si spera la primavera potrà offrire le date di aprile sono state infatti scelte per consentire agli operatori di promuovere con forza la stagione turistica a 360 gradi